Poi lo apri e poi lo metti in sua voce. Poi allacci la cintura, metti un tipo di stecchino, poi te lo metti in nocca. E che fai con lo stecchino? C'è la porta d'emergenza, qui c'è un'emergenza, apri la porta e vai con lo scivolo. Questo non ho capito che sono queste. Sono delle tipo campanelle. Le metti nella bocca se non riesci a respirare. E queste cose che sono? Queste sono, non puoi mettere gli occhiali, è una cosetta che non so piano. Poi non puoi mettere i violettini o gioielli. Non puoi nemmeno mettere i dati. Devi essere un po' silenziosa perché delle persone proveranno a dormire. Poi se c'è un quadissimo puoi andare sotto alle sedie. Poi qua c'è la porta d'emergenza, puoi andare fuori, andare fuori dell'aero. Ok, cool.